Nasce un nuovo motoclub che vede alla presidenza lo storico pilota di enduro Stefano Frassini. Il nome di motoclub è Aitalia Elba, sapete la storia di Aitalia no? Era una nave? No, effettivamente era il nome dell'Elba che dettero i greci quando arrivarono con le loro barche e videro questa cappa di fuligine, erano gli etruschi che facevano il ferro e la chiamarono Aitalia perché vuol dire la fuliginosa. Poi è stata una motonave e da una motonave a un motoclub è una nuova associazione che si occuperà di moto. Le associazioni nascono così spontaneamente perché gruppi di persone si ritrovano con obiettivi comuni e da lì si associano per avere una voce sola che è più potente quando è associata a tante persone. Un motoclub è un argomento che è sempre stato un po' anche dibattuto sull'Elba per la tutela della natura quindi quale saranno le vostre azioni per portare avanti lo sport e contemperare anche tutte le esigenze richieste dalla tutela dell'Elba? Il territorio dell'Elba effettivamente è un territorio che si presta tantissimo a uno sport di questo genere Il nostro obiettivo non è la promozione dello sport perché lo sport in realtà è già promosso vengono da tutta Italia Io ho fatto presidente di un'associazione dal 2012 fino al 2018 e abbiamo già organizzato ben 10 manifestazioni, 10-11 non mi ricordo bene La tutela del territorio, come si tutela il territorio? E questa è una grande sfida perché il territorio va tutelato attraverso i regolamenti che esistono e che bisogna ben conoscere ma soprattutto farli conoscere agli altri ma non solo ai motociclisti Da lì si parte per costruire perché vedi la moto fuoristrada specialmente tanti lo vivono come un problema ma in realtà non è un problema potrebbe essere, anzi è, sicuramente una risorsa La risorsa va sfruttata al meglio proprio attraverso la tutela del territorio che non è uno slogan retorico, ci mancherebbe altro basta mettersi lì con le altre associazioni e far capire la bontà del nostro prodotto Quindi un lavoro comune, associazioni, enti e le istituzioni? E soprattutto, il dialogo bisogna sempre portarlo al di fuori dell'associazione perché tra di noi siamo tutti bravi, tutti ci vogliamo bene perché parliamo della stessa lingua il problema è quando si va fuori che bisogna far capire cosa facciamo Ecco, qui all'Isola d'Erba esiste un movimento ma non solo all'Erba esiste in tutta Italia e l'Erba è una meta molto ambita ecco da lì è necessario che un motoclub abbia come obiettivo quella di far conoscere bene il territorio e far osservare le regole mai abbandonare il percorso istituzionale e mai abbandonare ovviamente i percorsi che esistono, quelli veri su strada A proposito di manifestazioni, quindi siete appena nati come intendete muovervi e avete già previsione qualcosa come manifestazione, come eventi? Sai, noi abbiamo già l'esperienza passata di queste manifestazioni già organizzate ora quest'anno ovviamente siamo appena costituiti è impossibile, ci dedicheremo però a delle cose molto particolari che credo che siano molto importanti sotto tutti gli aspetti primo l'organizzazione di eventi locali per i nostri ragazzi, per i nostri atleti che vanno a correre fuori, quindi gli allenamenti che vengono chiamati hobby sport in seconda analisi questi ragazzi che andranno a correre fuori verranno seguiti quest'anno con un hospitality dove li assisteremo, terremo i tempi dopo una grande festa perché l'obiettivo qui è divertirsi cioè divertirci e far divertire quindi bisogna cercare di anche una bella mangiata insieme farsi tante risate e stare bene insieme un gruppo che sia diciamo armonizzato e che viva bene questo sport